Cifre sballate, numeri quasi raddoppiati, il consenso padovano alle regionali si tinge di giallo a far scoppiare il caso sulle preferenze ottenute dai candidati al Consiglio regionale per la provincia di Padova, il verbale della Corte d'Appello che ieri sera la nostra emittente ha divulgato in anteprima. Le cifre rispetto a quelle rilevate dal sito leggendo del Ministero dell'Interno sono completamente cambiate. I numeri riportati dall'estratto del verbale sono gonfiati, per esempio Mr. Preferenza Roberto Marcato schizza da 11.600 a oltre 22.000 preferenze. Raddoppiati anche i consensi di Enoch Soranzo di Fratelli d'Italia e di Elisa Venturini di Forza Italia. Un aumento trasversale, visto che anche agli eletti nelle file dell'opposizione è toccata la stessa sorte. Vanessa Camani del PD vola a quota 11.800 superando il collega di partito, il vicentino Giacomo Possamai ed Elena Ostanel della lista al Veneto che vogliamo sfiora le 9.000 preferenze. Per la minoranza in gioco ci sono ruoli di capogruppo e posizioni di partito. Il giallo delle preferenze raddoppiate ha scatenato anche gli appetiti dei non eletti che ora vorrebbero chiarezza sui conteggi nella speranza di un posto in consiglio. Cosa è accaduto? Cerchiamo di ricostruire. I verbali quasi sicuramente potrebbero essere partiti sbagliati da Padova o forse l'ipotesi è quella di un errore del sistema. Ci potrebbe essere anche la terza via, quella di un miracolo di Sant'Antonio, ma pare la più improbabile. Scherzi a parte, il presidente del consiglio regionale uscente, Roberto Ciambetti, sta per inviare una lettera formale alla Corte d'Appello per avere chiarezza su quanto è successo. Per quanto riguarda i dati, ho sentito il presidente del consiglio che ha ruolo istituzionale in questa vicenda e quindi il consiglio, l'osservatorio, ci sono molti aspetti che sono degni di contestazione e di osservazione, lo si farà in maniera ufficiale. In attesa di conoscere la giunta, che dovrebbe essere annunciata entro il 16 di ottobre, ci sarà la nomina ufficiale dei consiglieri regionali. A sorpresa, dopo il ricorso al Tare, entrano a Palazzo Ferrofini 5 Stelle con un consigliere, la veneziana Erika Baldin, che toglie così un posto alla lista Zaia. Viene esclusa la Zaiana Roberta Vianello, ma i giochi, secondo il governatore, sono ancora aperti. Per quanto riguarda invece il seggio, noi siamo convinti che la conta dei voti dovrebbe essere fatta in un'altra maniera e quindi annunciamo che ci sarà da parte dell'interessata il ricorso al Tare.